Se hai riscontrato problemi riguardo al GPU Drivers, tipo i problemi con la scheda grafica sul gioco Warhammer 40.000 Space Marine 2, è possibile aggiornare la propria scheda video grazie ai nostri programmi, un supporto di Nvidia o AMD oppure Intel. Quindi in questo caso in descrizione ho lasciato così i link sulla pagina di Nvidia App, i driver vecchi di Nvidia, poi abbiamo quelli di AMD e poi quelli di Intel. In questo caso possiamo direttamente scaricare la beta di Nvidia App e aggiornare i driver della nostra scheda grafica e possiamo anche configurare la grafica sui giochi. Quindi andiamo così a scaricare la beta, la installiamo e poi andiamo a scrivere qua sopra Nvidia oppure lo trovi direttamente qua sotto, ci clicchi sopra e ti porta su questo pannello. Come puoi vedere driver, hanno appena rilasciato un nuovo driver l'11 di settembre, installi e scarichi così i driver per la scheda grafica Nvidia. Invece per quelli che hanno anche una scheda grafica, tipo per esempio grazie al supporto questo qua, dei prodotti AMD Radeon della scheda grafica 7900 XTX, questa qua, puoi scaricare e installare i driver di AMD oppure puoi direttamente andare su AMD driver support ed eccoli qua. Scegli così il prodotto della tua scheda grafica, processore scheda grafica, la cerchi, scarichi e installi così il driver oppure puoi cercare direttamente sempre in descrizione AMD Adrenaline. Ed eccolo qua, diciamo che questo è un programma simile a Nvidia app dove puoi scaricare i driver e configurare così la grafica sui giochi. Scarichi e installi così i driver sul tuo computer. Per Intel invece basta direttamente scaricare questo driver, lo installi e poi una volta fatto tutto devi solamente riavviare il sistema. Se non dovesse bastare per non avere sempre problemi con Warhammer, puoi semplicemente andare su Windows Update e vedere se devi fare qualche aggiornamento. Come puoi vedere io devo fare qualche aggiornamento, quindi scarico e installo gli aggiornamenti. Se fai gli aggiornamenti non avrai problemi di crash, schermo nero, problemi di driver che quando avvia un gioco il gioco non si avvia per via dei driver. Quindi aggiornate sempre la scheda grafica. Per altri problemi ancora Warhammer funziona perfettamente, posso giocare senza problemi. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!